Un'altra parola inglese che sembra lontana da queste realtà precise del lavoro, del rapporto con la persona, con il lavoro del futuro personale, è outplacement. Forse conviene partire da qui, da raccontare cosa vuol dire questa parola. In certi casi ormai cercare di inventarsene un'italiana forse è una battaglia persa, è inutile. D'altra parte c'è un concetto simile che è quello di lavoro somministrato, di ambiti simili, insomma, che anche quella in italiano è abbastanza brutta, uguale. Quindi, che cos'è? Teniamoci la parola inglese ma guardiamoci dietro. Certo. Sì, è outplacement, ormai è il termine corrente, anche a me non piace come parola sinceramente, però è quella più usata. È traducendo il supporto alla ricollocazione professionale delle persone. Per cui, quello che facciamo noi, bellissimo mestiere, è appunto aiutare le persone a ritrovare un lavoro dopo che l'hanno perso. Però lavoriamo per l'inplacement, infatti quando abbiamo ribrandizzato la società da DBM Italia, no? A Intu, io ho fortemente voluto un marchio che iniziasse con l'in, perché mi piace l'in, opposto all'out, no? Noi lavoriamo per il futuro, la ricostruzione delle persone, ritrovare una nuova opportunità professionale, rientrare nel sistema contributivo del paese, per cui scoraggiare il lavoro in nero, no? E anche supportare le persone psicologicamente, perché è un intervento che avviene in un momento della vita che può essere il più delicato, no? Nella vita di una persona. La perita del lavoro è un trauma, no? Va a ledere anche il nostro senso di identità, quello che siamo nella società. Molte persone si vergognano a dirlo a casa, a dirlo agli amici, no? Per cui prima di tutto deve partire una ricostruzione psicologica, proprio dell'interezza della persona. E in questo i nostri consulenti sono bravi. Prima di tutto è non fare sentire solo chi ha questo problema e accompagnarlo con un metodo che ormai è usato da vent'anni, per cui è molto strutturato, è molto profondo e riesce appunto di nuovo a far guardare al futuro con fiducia, no? E rientrare appunto nel mondo del lavoro. Anche qui a Napoli stiamo riuscendo a farlo molto bene. Abbiamo supportato una sessantina di persone l'ultimo anno e tutte sono state ricondotte nel mercato del lavoro, per cui funziona. Ecco, questo lo possiamo vedere in situazioni apparentemente, poi se è solo l'apparenza ce lo dici tu, ma diversissime. Da quella del dirigente, che si può immaginare un dirigente, un manager è convinto di aver mercato, comunque sa lui cosa fare. A invece, immaginiamo persone di fabbrica con una consapevolezza del loro lavoro, così come abbiamo sentito raccontare prima. Ecco, sono due situazioni molto diverse e penso che il tema della ricollocazione ci sia per entrambe queste figure. Assolutamente. Anche se avviene ovviamente, come giustamente hai detto tu, in modo diverso e vanno giocati fattori diversi. Però forse illustrare un pochino i due casi, soprattutto il secondo, è utile per entrare. Sì, per capire poi cos'è, perché le persone dicono, ma alla fine che fate? Esatto. Ma allora, con gli operai, allora intanto è un discorso davvero di sensibilità sociale, perché un operaio da solo non sa come si cerca lavoro, non ha spesso neanche un curriculum, non sa da che parte iniziare, non ha un suo network personale, per cui davvero, e spesso finisce poi nelle spirali del lavoro in nero, molto facilmente. Allora, lì noi facciamo un lavoro molto sistematico sul territorio, perché abbiamo, ad esempio, qui a Napoli, la nostra consulente che è seduta lì, Laura Mele, lei conosce le aziende del territorio, per cui tracciamo proprio fisicamente un cerchio, a 30 chilometri dal punto di chiusura della fabbrica, e poi chiamiamo tutte le aziende all'interno di quel territorio per farci dire le posizioni aperte. E ce le dicono, perché c'è un rapporto di fiducia, nel momento in cui noi diamo i candidati alle aziende, lo facciamo gratuitamente, perché siamo già stati pagati dall'azienda che ci ha dato l'incarico, per cui le aziende sanno che da noi trovano persone già che conosciamo bene, che proponiamo, perché siamo sereni nel proporle. E anche esperte. Esperte, esatto. Si immagina anche voglia di lavorare. Esatto, per cui quello non facciamo perdere tempo, non segnaliamo persone che non abbiano voglia. Le nostre consulenti, quando chiude uno stabilimento, una settimana prima vanno a visitarlo, guidate dal responsabile dei risorsi umani o addirittura dal responsabile dello stabilimento, e si fanno spiegare ogni macchina che cosa fa, ogni linea che cosa fa, ogni operaio che cosa fa. Perché quando poi l'operaio si racconta, molto spesso dice, io sono sulla terza linea, oppure io sono alla macchina, io sono sulla A15, e noi dobbiamo sapere che cosa vuol dire essere sulla A15, che tipo di strumenti utilizza, cosa sa usare come tool, che cosa fa fisicamente. In questo modo, quando una società ci dice, se ne parlava ieri sera, cerco un battilamiera, noi sappiamo cosa vuol dire, cioè sappiamo esattamente cosa fa un battilamiera. E dunque, anche i passaggi da un settore all'altro sono facili da immaginare. Chi lavora in legno curvo può passare dal cantiere navale, alle strumenti musicali, e magari non lo sa. Chi lavora sulle carlinghe dell'aereo può passare, in molti casi, a lavorare in settori dove non immaginerebbe andare, perché quella è una professionalità che si può spendere in tanti settori adiecenti. Per cui, poi, dopo aver raccolto le posizioni dalle società che appunto ce le raccontano, facciamo il match con le persone che abbiamo in carico, e organizziamo i colloqui di lavoro, e dunque li accompagniamo proprio fino alla fine. Dunque possiamo dire, supporto alla ricollocazione da parte nostra, 100% in questo caso. Ovviamente, man mano che il livello si alza, come potete immaginare, telefonando alle aziende del territorio, non riesco a raccogliere posizioni da dirigente o da manager alto, per cui non diventa più quella la modalità. Per il dirigente o per il manager, comunque, quello che conta è il suo network personale. Per cui noi insegniamo alle persone come si sviluppa il suo network, mai chiedere lavoro a chi conosciamo, sempre chiedere contatti. Facciamo insieme una lista di aziende target, e poi a quelle si deve arrivare per contatto diretto, contatti di primo livello o di secondo, per cui chi conosce chi, e riesco così a mappare come arrivare sulle aziende in modo diretto. Per cui è un lavoro completamente diverso. Si fanno tante simulazioni di colloquio, perché chi di noi può dirsi perfettamente sciolto e a suo agio quando fa un colloquio di lavoro, se non lo si è fatto negli ultimi tre anni, già si è perso l'allenamento. E poi è molto cambiato nell'ultimo periodo. Oggi il modo di condurre i colloqui spesso è telefonico, è su Skype, la prima selezione. Chi ha fatto colloqui un po' datati non è abituato a questa modalità. Io stessa, gli ultimi che ho fatto, ci vedevamo vis-à-vis, si discuteva, farlo al telefono, magari in inglese. C'è un selezionatore in Inghilterra. Non è facile. Per cui noi, facendo un po' di simulazioni, facciamo ritrovare le persone alla scioltezza e poi gli insegniamo a raccontarsi in un modo impattante. Quando arriva la famosa domanda mi parli di lei, ho quei 6-7 minuti che devo veramente colpire e noi gli diciamo come farlo. Dunque, c'è un rafforzamento della persona e degli strumenti che la persona usa. Questo in pratica è l'outplacement per i livelli più alti. C'è una situazione in cui qualcuno sceglie oppure voi consigliate di mettersi in proprio. Sì. E lì è una variante. Come? Perché voi intuite che è la soluzione praticabile o perché quella persona viveva questi talenti. Poi in quel caso è un accompagnamento ancora diverso da quelli che hai. Esatto, esatto. Questo è importante perché soprattutto su certi territori molto disagiati. Pensiamo a zone interne, abbiamo lavorato a Melfi, abbiamo lavorato a Potenza, molte aree adesso del Parmense, Ancona. Lo stesso Campania o Abruzzo ha delle sacche dove è un po' complicato. Poi le persone, soprattutto gli impiegati o gli operai, sono molto residenziali, è difficile proporgli un lavoro a tanti chilometri di distanza. Per cui se la persona ha l'attitudine, perché sinceramente non andiamo a forzare se questa attitudine non c'è, perché poi si va incontro a un fallimento che scoraggerebbe ancora di più, però se la persona ha l'attitudine, incoraggiamo ad esempio il formarsi di cooperative. Mi viene in mente quando abbiamo seguito la chiusura di Indesit nella Bergamasca e anche vicino a Trieste, abbiamo aiutato due o tre cooperative. In questo caso erano operaie, catena di montaggio, per cui operaie generiche, però sette di loro che avevano figli li abbiamo aiutati, accompagnati da un collega un po' più managerino, diciamo, a creare una cooperativa di pulizie. E le abbiamo accompagnate nel primo anno di attività, aiutandole anche a trovare i primi clienti. Adesso è una cooperativa che ancora esiste, funziona. Queste donne hanno trovato un equilibrio di vita molto valido. Qui, ad esempio, nella zona di Melfi, invece abbiamo aiutato un gruppo di donne a creare una piccola cooperativa di sartoria e cucito. Sono cose semplici, però se uno non l'ha mai fatto, non lo sa come si fa. Li aiutiamo a compilare la documentazione, a capire se possono trovare un finanziamento, li accompagniamo per un anno, poi se la cosa va male, sanno che possono rientrare in outplacement, per cui sentono le spalle coperte, ma devo dire all'80% va bene, perché riusciamo ad accompagnarli bene. Questo è importante. Poi c'è il cuore comunque che è questo passaggio di elaborare il lutto, di superare la perdita del lavoro, di superare l'umiliazione, la vergogna di dirlo. Come dicevamo prima, non ho più la busta paga da portare a casa, ma non ho più neanche il mio lavoro, il mio lavoro in cui io mi sento realizzato come persona. Questo è un tema, guarda, fai bene a sottolinearlo, perché questo è il tema più forte, la vergogna di dirlo ai propri figli. Noi abbiamo tantissimi candidati che hanno proprio il disagio di andare a casa e dirlo ai propri figli, perché il padre soprattutto è un modello. E per un padre dire ai propri figli io non ho più un lavoro, vuol dire comunicare un fallimento. Dunque è estremamente importante all'inizio anche essere accompagnati per capire che invece questa è una cosa che oggi accade normalmente e soprattutto non è più collegata come qualche anno fa alla propria performance. Perché noi vediamo come... Il figlio dirgli così un genitore non lo vuol dire perché non vuole trasmettere al figlio un'idea di fallimento. Esatto. Però quindi non può più raccontarsi come è. Esatto, non può più tornare a casa e raccontare cosa ha fatto. Anche il problema di essere a casa. Papà che fai a casa. È difficile spesso. Per cui è un po' questo invece dire alla persona... Intanto confrontarsi con tanti altri che hanno questo stesso problema e prendere atto che non è legato a una performance negativa. Lo sapete meglio di me. È legato a taglio dei costi, è legato a cambio di cordata, arriva un nuovo direttore generale. Ci sono motivi totalmente scollegati alla performance della persona e ormai è così nell'80% dei casi oggi. Per cui prima di tutto far prendere coscienza che non è legato a sé e separare da sé l'evento. Poi imparare a comunicarlo e subito dare un senso di ripartenza. Noi puntiamo molto sui tempi. Cioè le persone in 20 giorni quando sono in outplacement sono già sul mercato. Immediatamente analizziamo il profilo, rimettiamo a posto il curriculum, se è un livello un po' alto anche il profilo LinkedIn e poi via subito sul mercato. Per cui il girare la testa... Indirizzare le energie verso uno scopo. Esatto, agire verso lo scopo. Di nuovo proiettati al futuro è molto veloce. Cerchiamo di farlo in tempi molto compressi. E vedi la persona che subito riparte ritrova energia e si rimette in pista. Questo è fondamentale. E da soli è più difficile ovviamente. Questo è un po' il punto. Da soli spesso proprio non ci si riesce. Poi sono paradossi, ma più uno è legato a un'identità, più tenta di ritrovare la soluzione a partire da quell'identità. E certo, esatto. A immaginarsi a fare quello che ha fatto fino a quel momento. Poi se uno guardasse invece, perché non possiamo separare la ragione da un lato e le emozioni da quell'altro, ma razionalmente se lì ho perso lavoro dovrei andare a cercarlo da un'altra parte. Però dirlo è facile. Esatto. Ecco, ma invece voi non lo dite e basta. Come si fa a condividere con le persone queste? Perché c'è un aspetto non so, legale, contrattuale, un aspetto psicologico, un aspetto di counseling, di pura gestione del momento di passaggio. Cioè, voi che leve usate? Tutte, tutte, tutte integrate, ma soprattutto funziona a fare tanti esempi. Ad esempio, qui a Napoli abbiamo seguito tante figure di informatore medico-scientifico e queste sono figure che si immaginano informatore medico-scientifico. Cioè, è difficile che invece al 40% tornano a fare quello, ma poi diventano nutrizionisti. Molti di loro adesso gestiscono un'agenzia immobiliare perché in realtà il parlare con un cliente che è il medico, ma il comunicare sono bravi in genere a condurre una a impattare in pochi minuti, per cui quelli che hanno una dote commerciale più spiccata possono fare altre attività commerciali, aprono parafarmacie o fanno scelte anche estremamente diverse, però appunto 60% di loro oggi fa altro e allora funziona molto raccontargli gli esempi. I bancari, abbiamo seguito tanti bancari, convertire un bancario è molto complicato, perché cos'altro può fare, pure c'è uno spettro di cose che anche un bancario può fare, dunque insomma funziona allargare lo spettro, andare in profondità sul profilo, partire dalle skills della persona che possono essere in realtà usate su tanti settori adiecenti e in ruola adiecenti e spesso poi le persone vanno a fare cose che non immaginerebbero da sole. proprio una battuta perché poi finisce il tempo, ma questo supporto ha un grande valore anche etico credo, cioè c'è il confine con il lavoro nero, c'è il lavorare sulla dignità della persona, cioè perché il mercato del lavoro lo vediamo come qualcosa in questo momento anche di duro, di ostile, poi invece però si possono fare queste cose e hanno successo. No, assolutamente, poi per l'azienda dare l'outplacement secondo me è un grande valore di immagine e anche di comunicare che ci si preoccupa per le persone perché prima di tutto a chi comunichiamo il licenziamento ma contemporaneamente diciamo guarda che però io mi preoccupo di te ti do anche l'outplacement comunichiamo che continuiamo a prenderci cura di lui per cui si abbassa la tensione del momento della separazione ma soprattutto è un messaggio importante per chi resta in azienda cioè non dimentichiamoci l'impatto che un'uscita di persone ha su chi rimane sui colleghi che poi continuano allora lì far vedere che l'azienda si preoccupa dei dipendenti che deve far uscire è un messaggio chiave in realtà per chi in azienda rimane poi se la cosa è grossa anche impatto sui giornali comunque è un'immagine di etica perché non ci si stupisce oggi che le aziende debbano a volte fare a meno di alcune persone però c'è modo e modo di farlo c'è un modo anche etico di condurre dei licenziamenti e la placement sicuramente è uno strumento che rende il tutto molto più etico poi peraltro noi rimaniamo in contatto con l'azienda ogni mese mandiamo un rapporto al direttore personale per comunicare come sta andando il percorso per cui la relazione non si interrompe e la persona sente che l'azienda ancora si prende cura per cui se poi andrà in un'azienda che ha a che fare con la sua azienda di provenienza non saranno nemici continuano a fare business insieme e la relazione è su un piano assolutamente più umano cioè a me oggi quello che fa paura è vedere tante aziende grandi multinazionali di nome con una grande storia di cura delle persone che stanno perdendo invece l'etica di base che licenziano in modalità violentissime vediamo licenziamenti via sms licenziamenti comunicati per lettera senza neanche incontrare la persona o persone convocate a false riunioni di business che trovano lì le guardie giurate che gli fanno lasciare giù chiavi della macchina computer e vengono accompagnati fuori come dei criminali cioè io non credo si debba arrivare a questo c'è un modo di e cito un caso perché posso farlo Sanofi ha licenziato 460 informatori da noi sono arrivate persone quasi 300 serene serene abbiamo potuto iniziare a lavorare due giorni dopo perché il processo era stato condotto con una modalità di comunicazione così vicina alla persona così trasparente così etica che non si era creato un trauma per cui questo è una best practice secondo me invece troppe volte vediamo delle cadute di stile terribili che poi sulla identità sull'intimità della persona hanno un impatto violentissimo si va quasi a distruggere la persona io non credo sia necessario questo per cui vediamo tantissimi casi in cui invece il processo viene condotto in termini assolutamente civili e anzi molto umani per cui ecco è questo in Italia non è obbligatorio l'opplacement però io credo che ognuno di noi deve farlo suo e andarlo a usare per la valenza sociale che ha appunto perché noi aiutiamo a ridurre i tempi e facciamo rientrare le persone nel mondo del lavoro ha una valenza etica una valenza di immagine per cui riusciamo a condurre processi che a nessuno di noi fa piacere ne discutiamo ieri con Rosa un direttore e char soffre in un momento che licenziano chi è felice però penso che l'opplacement possa essere uno strumento che ci aiuta a farlo meglio e per il paese ha una valenza enorme può fare risparmiare risorse allo Stato accorciare i tempi dell'indennità per cui da tutti i punti di vista è una cosa positiva oggi l'obiettivo della piena occupazione lo si può perseguire solo per queste vie assolutamente grazie grazie a tutti